momenti di dubbio incertezze in relazione alla mia vita professionale un altro luogo infestato deciso di fare un primo passo importante io sono giulia lui è mess e questa è alba la nostra casa con la quale stiamo navigando nel mediterraneo al momento in croazia iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed il regno dello spirito nell'episodio precedente un temporale all'ancora ha messo la nostra barca in pericolo e ci ha ricordato che gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo oggi navighiamo verso l'isola di brazza e cerchiamo disperatamente di sfuggire ai fantasmi che ci inseguono ciao amici stiamo per lasciare questa baia che ci ha ospitati per qualche giorno perché mentre nei giorni passati questa baia era protetta perché il vento veniva di là adesso invece il vento inizia ad arrivare ed è previsto proprio dall'imboccatura della baia da quella direzione e quindi è ora di muoversi navigazione di oggi sarà molto breve ci fermeremo subito in una delle prime baia penso che navigheremo per poco più di un'ora quindi in realtà è una navigazione che possiamo inserire una normale giornata basta programmare un po ad essere organizzati e si riesce a fare tutto basta programmare ed essere organizzati e si riesce a far tutto questa è sempre stata la mia strategia per mettere insieme in una sola giornata vita in barca vela e navigazione lavoro da giurista riprese e montaggio dei video studio e scrittura creativa se poi uniamo anche il desiderio di socializzare ed esplorare terre nuove e l'interesse per la spiritualità e la crescita personale abbiamo un mix forse un po eccessivo fino ad ora sono riuscita a tenere insieme tutti questi elementi nella mia vita ma non è stato facile ciascuna di queste cose esprime una parte di me ma allo stesso tempo tutti questi elementi così diversi sono anche in conflitto tra loro e in un certo senso sono io ad essere in conflitto con me stessa ci stiamo preparando per entrare nella baia e dare ancora abbiamo ammainato le vele acceso il motore ritirato sulla canna da pesca che non ha pescato proprio niente io mi sono messa la mia minutina perché dovrò saltare in acqua mentre fino adesso per la maggior parte degli ancoraggi io sono stata al timone messa calato l'ancora a prua e poi è saltato in acqua preso il kayak per andare a portare le cime a terra adesso proviamo un nuovo modo di fare le cose giusto affinché tutti acquisiscano un po le stesse competenze per cui messa al timone io calerò l'ancora e poi non appena avrò visto che l'ancora ha preso bene e corro a poppa salto in acqua e porto le cime a terra missione compiuta ho portato le cime a terra mi sono fatta la mia nuotata non riusciamo a vedere l'ancora però sembra che abbia preso almeno dal movimento della barra il vento dovrebbe arrivare da quella direzione quindi dovremmo essere ridossati ma sorpresa sorpresa c'è un temporalino che ovviamente cambia la direzione dei venti quindi adesso lo prendiamo un po in un modo diverso c'è un po in un po in un po in un po in un po non abiscono anche non cares Marion ello torillato torillato ma pesce è tardo pomeriggio e faccio una breve pausa dal lavoro per ricordare a tutti voi che mi seguite sempre vedete sempre i miei video in barca che neppure da questa parte dello schermo è sempre tutto semplice io sono molto molto felice e grata per tutto quello che sto vivendo per la mia vita e per il fatto di poterla condividere con voi però anche io come tutti affronto momenti di dubbio momenti di incertezze periodi difficili e in questo periodo ciò avviene in relazione alla mia vita professionale perché sento che nel lavoro che faccio da ormai più di sei anni inizia a mancarmi qualcosa o già da un po' mi manca qualcosa io sono cambiata molto il contesto in cui vivo è mutato e faccio sempre più fatica a costringere pezzi così divergenti a stare forzatamente insieme ed è una cosa che fa un po' paura abbiamo passato tutta la giornata a bordo di alba a destreggiarci tra lavoro al computer e faccende domestiche che in barca sono sempre un po' più complicate ma abbiamo finito giusto in tempo per goderci il tramonto in questa baia che stasera è tutta nostra eccoci all'alba di un nuovo giorno e ogni giorno come anche ogni ora e ogni minuto è potenzialmente il principio di una nuova vita ma per dare inizio a qualcosa di nuovo bisogna prima fare i conti con i fantasmi del nostro passato che ci tengono incollati alla nostra vecchia identità tutti noi vorremmo fluire senza fatica da una fase all'altra della nostra vita senza incontrare l'esistenza e con la certezza che tutto andrà bene ma la realtà non funziona così che ben risveglio in questa baia selvaggia stamattina forse è la mia preferita una delle mie preferite tra quelle che abbiamo visitato fino adesso siamo svegliati con il sole stamattina abbiamo già bevuto il caffè e siamo pronti per andare a fare un piccolo trekking prima di metterci al computer e andremo un po' su queste colline montagnole qua sopra e ne esploreremo tutti i segreti io non mi considero una persona paurosa ma ogni volta che sono sul punto di intraprendere una nuova avventura che si tratti di un viaggio un'esperienza un nuovo progetto vorrei sempre sapere come andrà a finire credo che la nostra mente funzioni così in relazione ad ogni nuova cosa che facciamo anche se stiamo solo andando a fare un percorso di trekking ci pregustiamo già il momento in cui faremo ritorno alla base sani e salvi soprattutto se il percorso di trekking è tra montagne infestate dai fantasmi brazza è l'isola più grande della dalmazia e la terza di tutta la croazia già nel paleolitico c'erano insediamenti umani che però sono svaniti nel neolitico anche tutti i villaggi fondati dagli illiri che io chiamo i pirati dell'adriatico sono andati perduti per questo la parte dell'isola dove ci troviamo noi ha conservato una bellezza selvaggia ma anche un po' spettrale siamo arrivati a questa casetta semi abbandonata tutta in pietra è un posto incredibile perché sembra una casa di montagna si sentono anche delle pecore belare si vedono le montagne dell'isola ci sono un po' tutte quelle cose che si trovano nelle case di montagna in pietra ma poi laggiù si vede uno scorcio di mare si vede anche alba è un posto cozzesco sono poi uno di quei luoghi che stimola davvero la mia fantasia a viaggiare pensare chissà chi vive qui chissà chi si rifugia qui perché ci deve essere qualcuno che usa questo posto però adesso non c'è nessuno ve l'ho detto i fantasmi sono sempre dietro l'angolo non era solo una casa è un intero villaggio ma abbiamo trovato tutte queste costruzioni in pietra alcune mezze crollate altre ancora abbastanza in buono stato però adesso tutto abbandonato si possono proprio distinguere le varie case i cortili gli ingressi dei cortili e chissà com'era quando c'erano le donne che facevano il pane i contadini i bambini che giocavano le galline che scorrazzavano magari cani e adesso invece piano piano la pietra delle case sta tornando al suolo e la vegetazione sta riprendendo sopravvento su tutto grazie a tutti grazie a tutti Forse non c'è motivo di temere gli spettri che abitano questo villaggio abbandonato In realtà sono altri fantasmi che mi spaventano davvero Paura di fallire, insicurezza e convinzioni limitanti Non importa quanto io navighi veloce e quante miglia io percorra Essi mi daranno sempre la caccia Di tanto in tanto i miei fantasmi mutano forma, ma non mi lasciano mai Gli spettri che mi perseguitano in questo periodo sono legati alla mia identità professionale È come se volessero trattenermi nel passato, impedirmi di evolvermi E convincermi che io non posso fare nulla di diverso rispetto a quello che ho sempre fatto Pena il fallimento Ma io non posso continuare a fuggire E credo sia giunto il momento di prendere coraggio e affrontare ciò che mi perseguita In questa baia c'è in realtà un altro luogo infestato Che è un tunnel per riparo dei sottomarini dell'ex Yugoslavia È una vecchia struttura bellica E adesso andiamo ad esplorarlo Un luogo che richiama la guerra ha già di per sé natura spettrale Questo poi è reso ancora più minaccioso da inferiate e spuntoni di metallo arrugginito E rocce pronti a caderci in testa Mentre remavamo dentro la galleria buia Stormi di pipistrelli ci scrutavano con migliaia di occhi tetri E cosa ancora più inquietante Presenze invisibili ci osservavano dalle loro postazioni lungo il tunnel Qualcuno in piedi sulla riva Altri seduti a tavoli abbandonati Altri ancora nascosti nelle interminabili gallerie buie scavate nella roccia Altri ancora nascosti nelle migliaia di incendi Eppure, quando si ha a che fare coi fantasmi, il passo più difficile è trovare il coraggio di guardarli negli occhi che non hanno, per capire cosa rappresentano davvero. La consapevolezza di ciò che non vogliamo più essere è il primo passo nella trasformazione verso ciò che vogliamo diventare. Dopo un lungo periodo di riflessione ho deciso di fare un primo passo importante nel mio percorso di trasformazione personale. Ho guardato in faccia il mio fantasma, cioè la convinzione che la mia identità professionale debba rimanere sempre la stessa, che io debba continuare a fare sempre le stesse cose nello stesso ambito, nello stesso modo, e ho deciso di affrontarlo. La Giulia giurista continuerà a vivere in me, ma in un modo diverso. Ho deciso di intraprendere un nuovo percorso di studio, un programma che mi darà competenze e una struttura per aggiustare la mia rotta professionale, in modo da navigare nel vento della mia vocazione. Fino ad ora nella mia vita ho coniugato elementi molto diversi nella mia personalità, ma credo sia giunto il momento di fare un passo avanti e fondere tutte queste cose così diverse in qualcosa che esprima davvero chi sono. Non condivido ancora esattamente di cosa si tratta, lo farò più avanti, ma vi posso anticipare che non ho intenzione di fare né la youtuber a tempo pieno, né l'influencer, né queste cose qui, anche se non ci sarebbe niente di male, però non è quella la mia intenzione. La mia formazione giuridica continuerà ad avere un ruolo molto importante, ma nell'ambito di un progetto di vita un po' più ampio. Ma vi terrò aggiornati in futuro passo dopo passo e condividerò con voi i diversi step di questa mia trasformazione. Non so come andrà ovviamente, ma forse è proprio questo il bello. Se intraprendessimo una nuova avventura solo quando abbiamo la certezza della vittoria, allora rimarremo sempre incollati al divano, dietro la linea di partenza. Se non impariamo ad affrontare i fantasmi che ci tengono ancorati al buio del nostro passato, non potremo mai far risplendere la nostra vera luce. Nessuno ci darà mai la certezza che i nostri progetti futuri funzioneranno alla perfezione e che tutto andrà bene. L'unico modo per uscirne sempre vittoriosi è avere fede durante il cammino. Quando i nostri fantasmi ci inseguono, che siano giudizi, fallimenti o insicurezze, dobbiamo voltarci, lasciare che ci raggiungano e guardarli negli occhi. Solo attraverso la nostra consapevolezza potremo dissolverli e trasmutare la loro energia negativa in una spinta ad andare avanti, a crescere e a migliorare. Non perdetevi il prossimo episodio, in cui sono costretta a riconsiderare il mio rapporto con YouTube. Non perdetevi il prossimo episodio, in cui sono costretta a ricordare il mio rapporto con YouTube.